Fanno c'è e a differenza del passato viene coinvolta, così il sindaco Massimo Seri che replica le altre rappresentanze politiche secondo le quali Pesaro chiama e Fanno risponde. Non è così, dice il sindaco, dopo anni la nostra città torna ad avere un ruolo da protagonista. Noi ci siamo, ci tengono in considerazione, dopo tanti anni Fanno svolge un ruolo di coprotagonismo insieme agli altri. Allora scusate, sicuramente se non ci fosse stato questo protagonismo e non si fosse riecuperato questo nuovo ruolo, questa proposta si sarebbe fermata a Pesaro. Invece no, ogni cosa che accada c'è anche il coinvolgimento di Fanno. Se al contrario Fanno non fosse stata coinvolta nell'evento riminese i cittadini ne sarebbero rimasti delusi. E a quanti in questi giorni hanno equiparato la notte rosa a quella bianca quando una ragazzina fu stuprata? Seri ha ricordato che c'è modo e modo di organizzare gli eventi. Se una manifestazione si riempie di cultura coinvolgendo tutti i soggetti interessati e puntando sulle peculiarità fanesi, secondo il primo cittadino non può che diventare una promozione della città. Se questa cosa dovesse andare in porto, noi vorremmo valorizzare quello che è, ad esempio, il jazz, che diventa anche un'occasione per promuovere il festival di fine luglio, ma può essere l'occasione per promuovere il carnevale invernale come il festival del Brodetto. Quindi sono tutti elementi che possono dare valore e spessore, ovviamente, anche a tutti gli aspetti culturali della città, sapendo che poi la notte rosa come la notte bianca è anche una serata di divertimento. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Per cui noi ci siamo, però ecco, la cosa che mi piace sottolineare, e lo vediamo su tanti aspetti, Fano sta recuperando un ruolo di protagonismo all'interno del territorio. In passato troppo spesso non veniva coinvolta.